siamo con sergio peroni all'interno del bellissimo motorhome che insomma è itinerante così come la formula di successo da lui inventato ormai tanti anni fa nel 2020 si è superato ogni ostacolo in un'annata particolarmente difficile complessa come nessun'altra quindi questa formula non poteva che ripetersi ad alta quota anche nel 2021 un altro weekend partecipatissimo questo sulla pista toscana si è stato un anno il quale si può lamentare perché dopo la covid pensavamo tutti che ci fossero momenti bui invece abbiamo superato sia l'anno del covid sia questo secondo anno siamo quasi al termine di tutti i nostri campionati c'è ancora una gara maggiore una due ore riservata alle turisme poi chiudiamo l'anno come sempre con la sei ore di roma il bilancio è assolutamente positivo anche qui al Mugello abbiamo fatto dei grandi numeri in tutti i campionati quindi stiamo lavorando già per il 2022 totalmente dove ripeteremo le nostre formule ma insomma per ora ci contentiamo di come è andata l'annata per il 2022 idea nuova ovviamente lo satura lo chassis di questo format non si tocca perché ha dimostrato di essere vincente di essere divertente per chi lo fa è spettacolare per chi lo segue grazie anche le dirette molto puntuali molto ben realizzate si può fare si può innestare qualcosa si può dare qualche altro palazzo ulteriore dunque ripetiamo assolutamente quello che è il format di questi ultimi anni con degli aggiustamenti di alcuni campionati che modificano un po il programma della giornata però diciamo che il format rimane questo e la presenza di tutto quello che abbiamo avuto quest'anno si ripeterà si ripeterà anche la presenza del di promotori nostri ospiti così come i promotori stranieri che tedeschi che da noi torneranno per tre volte il corso dell'anno con le loro gt e le loro ex formula 1 quindi il parterre rimane comunque pieno di questi eventi abbiamo due nuovi campionati dei quali in questo momento non posso fare menzione ma entro i prossimi giorni daremo notizie se andranno in porto secondo le nostre previsioni due campionati molto molto interessanti uno dei quali dedicato completamente ai giovani speriamo di essere tra i vostri interlocutori appunto nel diffondere questi interessanti contenuti diciamo che una delle bellissime responsabilità e peculiarità che ha un format come quello peroni è quello di diffondere questi sound questi rombi dei motori tant'anni di una volta che ormai si fanno sempre più rari quindi c'è anche questa componente nostalgica che può essere soddisfatta attraverso le vostre gare i vostri eventi sì beh questa è una caratteristica visto la noi siamo con il campionato storico abbiamo passato oltre vent'anni quindi praticamente è una mia passione personale quella della storica e che mi piace molto portare avanti oggi abbiamo fatto il record dell'anno di scritti 45 vetture al via con il campionato italiano quindi effetti erano davvero una selva di vetture in effetti noi vedremo l'anno prossimo se aumenta ancora il numero delle vetture potremmo pensare di fare due schieramenti per dare modo anche ai più piccoli di distinguersi comunque diciamo che la presenza delle storie per noi è diventata da anni ormai una costante a cui teniamo molto il problema che mi piacerebbe ringiovanire un po tutto il parterre ecco perché l'invenzione del 2022 potrebbe essere un campionato dedicati molto ai giovani perché questo è un ricambio corso del tempo insomma un peroni race weekend più verde diciamo così più rivolto alle freschissime verdissime generazioni un rimpianto se c'è è un qualcosa che invece Sergio peroni si può dire di aver fatto molto bene in questi anni ma io ho fatto semplicemente quello che era quello che è il mio lavoro è stata una scelta 45 anni fa e quindi una scelta molto convinta perché io ancora oggi organizzo eventi di questo genere ma per me quasi non è un lavoro nonostante sia lavorone però quando quando fa un lavoro che di cui appassionato sicuramente la fatica si sente molto meno dopo 45 anni in qualche maniera si sente però direi che è un lavoro fatto con grande passione anche perché in questo mondo se non hai passione non ci puoi resistere grazie a tutti